Credo che chi non prende una posizione netta e rimane in una zona grigia oggi si assume una grande responsabilità perché mistifica la realtà. C'è un popolo aggredito e un popolo aggressore. E credo che oggi il Presidente Mattarella abbia detto parole molto nette e molto chiare anche preparando gli italiani alle possibili conseguenze economiche che le scelte che stiamo facendo oggi avranno sul nostro paese, sulle nostre famiglie, sulle nostre aziende. Lo stiamo già cominciando a vedere con l'aumento dei prezzi sia del carburante, dell'energia e anche dei beni di prima necessità. Però il Presidente Mattarella ha ricordato che non si può in qualche modo barattare quelli che sono i principi di libertà e di democrazia rispetto a quelli che saranno sicuramente anche conseguenze pesanti. Tra poco arriveremo.